Cari soci, con la terminale dell'anno 2018, come la consuetudine, a nome del Consiglio di Investizione e Cooperativo ho il piacere di portervi gli auguri per una buona fine d'anno, per una buona festività natalizia. È stato il 2018 un anno importante per la cooperativa, che è cresciuta, ha sviluppato nuove iniziative, si è consolidata nel mercato piemontese e questo l'ho potuto realizzare grazie al rapporto proficuo che ha con i propri soci, con le attività che sviluppiamo nei nostri presidi sociali, di cui naturalmente la comunità che ospita i nostri negozi beneficia in maniera importante e quindi davvero con grande piacere che vi faccio gli auguri, faccio gli auguri alle vostre famiglie di una buona chiusura dell'anno, di un felice 2019, sperando in una stagione di nuovi successi per la nostra cooperativa.